A Ravello Festival la magia del concerto all'alba, Anna Teresa Damiano. Da oltre 30 anni è l'appuntamento più atteso del Ravello Festival, il concerto all'alba che accompagna sul benvedere di Villa Ruffolo il passaggio dalla notte alla luce del giorno. Biglietti esauriti in 22 ore, 600 persone ad ascoltare l'orchestra filarmonica Verdi di Salerno diretta dal 23enne Riccardo Bisatti. Dalle 5.30 la musica e la magia, Mendelssohn, Smetana, l'immancabile overture del Guglielmo Hotel di Rossini, la quinta di Beethoven, il mattino di Grieg per il bis al sorgere del sole. Questa edizione del Festival diretto da Alessio Vlad è più che mai attenta ai giovanissimi talenti. Riccardo Bisatti ha debuttato come direttore a 18 anni, ha già collezionato riconoscimenti, ma si è detto emozionatissimo per il concerto nei luoghi che ispirarono Wagner.